Il dibattito che si è aperto sullo smart working somiglia a una commedia degli equivoci, secondo il ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta. Si è trattato di una modalità di lavoro in pandemia che senza adeguati cambiamenti non è smart working. Quindi è un lavoro a domicilio all'italiano, è un lavoro self-service, da casa. Allora pensare di proiettare questo tipo di organizzazione nata nell'emergenza, nel futuro, questo mi sembra un abbaglio. Nel settore privato è tutto molto più facile, tantissime aziende ormai hanno adottato forme ibride di lavoro, lo fanno perché pensano che questo vada a favore dei loro profitti e della loro competitività, un potenziale enorme di aumento di produttività, di conciliazione vita di lavoro, vita di relazioni e anche di sostenibilità ambientale. Quindi non resta che impegnarsi per eliminare tutti quei problemi e quegli ostacoli che ci sono nell'APA e per andare verso un modello ibrido, il meglio dei due mondi, dove possiamo conciliare lavoro in presenza, valorizzazione delle relazioni e dell'incontro e lavoro a distanza nel quale siamo sempre più manager del nostro tempo. Noi vogliamo arrivare in breve tempo ad un vero smart working. Nella PA sostiene Brunetta, ma per farlo dobbiamo prima tornare alla normalità post-emergenziale e per entrarci dobbiamo necessariamente abbandonare modelli regressivi e improvvisati e lavorare con il motore a pieni giri per costruirne di nuovi.